100 famiglie senza lavoro, senza cassa integrazione e dunque senza alcun reddito da diversi mesi sono quelle dei lavoratori di Esattorie 70, dei precari di Molise Dati 15 e del Corai 12 che si sommano a tanti altri lavoratori lasciati in mezzo ad una strada dal governo regionale. La drammatica situazione di stallo è stata denunciata dalla UIL che ha chiamato in causa direttamente l'operato del governatore Paolo Frattura tante le promesse fatte dal presidente ma ad oggi nessun risultato è stato raggiunto, ha dichiarato Pasquale Guarracino. 100 famiglie, 100 lavoratori che equivalgono a 100 famiglie, tutte vertenze eseguite personalmente dal presidente e questa è la cosa che forse da un lato ci dava la possibilità di sperare che una soluzione si sarebbe trovata invece dall'altro è la vera delusione del momento. Vediamo che è stata fatta una legge di riordino, il presidente l'ha annunciato e l'ha poi fatta votare in una notte soltanto e questa legge di riordino prevede da un lato la chiusura di Corai mandando a casa 15 lavoratori, dall'altro lato che è un fatto senza alcun precedente insomma che la nostra organizzazione sindacale ha impugnato, nella stessa legge però c'era anche un'altra cosa importante che è appunto quella dove si diceva che nessun dirigente delle partecipate può percepire più del direttore d'area, a questo punto il presidente ci deve spiegare per quale motivo i cinque dirigenti della Molise Dati continuano a percepire somme di 200 mila euro all'anno mentre invece i dieci ingegneri sono fuori dall'azienda e percepivano mille euro al mese. Ma per esattorie è stato fatto un bando ed è stata giudicata una gara? Sì è stata giudicata una gara diversi mesi fa, tanti mesi fa, troppi mesi fa, ci aspettavamo appunto vista l'epoca di rigore, il presidente molto spesso preannuncia di risanare i bilanci che anche esattorie o quella che sarà la nuova azienda che non si chiamerà più esattorie servisse per risanare il bilancio perché queste persone recuperano i crediti, mentre invece ciò non è accaduto, ancora non viene firmata la convenzione, quindi in buona sostanza se non c'è il contratto l'azienda non ci dirà mai quante persone prenderà perché bisogna capire che cosa c'è scritto esattamente nel contratto e al momento non c'è certezza su nessuna cosa legata a questi lavoratori, l'unica certezza è che anche queste 70 famiglie sono senza nessun reddito, senza nessun ammortizzatore sociale, con il presidente che già l'anno scorso il 31 di dicembre aprì una bottiglia insieme ai lavoratori brindando alle ultime battute finali prima di poter aprire questa società, prima di poter dar luce a questa società, cosa che non è mai avvenuta. Evidentemente quel brindi si riferiva ai festeggiamenti per il nuovo anno o ad altri risultati di tipo privato.